Sicuramente non solo per Falconara, ma in accordo con il comune di Falconara per tutta la nostra regione. Abbiamo detto e abbiamo già più volte indicato quali sono le linee guida della nostra amministrazione regionale, marche intermodali interconnesse. In questo rientra un atto concreto come quello che facciamo oggi, la modifica di accordi precedenti per far sì che l'aeroporto di Falconara sia connesso in maniera migliore con le stazioni ferroviarie sia di Falconara che della città di Ancona e ovviamente con il porto.